Università per stranieri di Perugia. Esame per il conseguimento del CELI 5. Certificato di conoscenza della lingua italiana. Livello C2. Sessione autunnale 2009. Prova di comprensione dell'ascolto. Il candidato ha un minuto di tempo a sua disposizione per rascorrere brevemente i test proposti nel fascicolo. Inizio della prova. D1. Primo testo. Ascolterete ora un testo che tratta di Internet e dei suoi pericoli. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio. Ascolterete il testo due volte. Buongiorno a tutti. Siamo arrivati per ultimi ma nella rete ormai ci siamo in tanti. In Italia tra le 4 e le 5 famiglie su 10. Internet per tenersi informati. Internet per fare acquisti per cercare lavoro. Internet per comunicare e fare nuovi amici. Come dice la pubblicità per essere sempre connessi. Su Internet si perde tempo. Può dare dipendenza. Con Internet si guadagna tempo. Comprando da casa. Evitando le file agli sportelli. Consultando online archivi sterminati. Pensate solo alle giornate che fino a 10 anni fa perdevamo per fare ricerche nelle biblioteche. E ai pochi secondi che oggi bastano per avere tutto in una videata di Google. Però attenzione. In biblioteca si trovano fonti per lo più certe. In rete si accede a tutto quello che tutti hanno scritto. Spesso alle cose non vere, alle cose inesatte, alle cose colpevolmente false. C'è ancora troppa gente insomma che riferisce notizie dicendo l'ha detto Google. Sono gli ingenui. Sono quelli che poi cadono nelle troppe trappole che da virtuali diventano reali. Sono i pigri che non verificano con attenzione a chi forniscono i loro dati sensibili. Sono i poco informati che, come chiudono a chiave la porta di casa, non usano i catenacci per i loro accessi alla rete. E qui vengono i dolori veri. Gli hacker, cioè i banditi informatici, entrano e fanno man bassa di codici e passwords. Ricostruiscono le nostre carte di credito e le rivendono su siti facilmente rintracciabili. E' un po' come se il negozio di ferramenta tenesse una copia delle nostre chiavi e le rivendesse con il nostro indirizzo a chi poi ci svaliggerà la casa. Umberto Rappetto, comandante del Gatti, il nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di Finanza. E colonnello, buongiorno. Buona giornata a voi. Lei queste cose le scriveva già dieci anni fa? E non mi credeva nessuno. Questa è la cosa drammatica. Sembravano degli scenari spettrali, sembrava così semplicemente un'angoscia sparata sui giornali. E invece era soltanto un primo scorcio di un orizzonte che poco alla volta si è aperto lasciando tutti svalorditi perché anche gli addetti ai lavori non pensavano che si arrivasse a una dimensione del fenomeno criminale talmente ampio e vasto da arrivare così all'utente finale. Colonnello, sì. Lei così naturalmente ci spaventa. Sappiamo comunque che il commercio elettronico, il commercio su internet è una grande occasione per riorganizzare un po' i nostri acquisti e per perdere meno tempo. Dicevo nell'introduzione internet può essere una perdita di tempo ma anche un grande guadagno di tempo perché non si prende l'automobile, non si va, le cose te le portano a casa. E in un modo assolutamente comodo e legale. Come essere sicuri, lo diciamo ancora una volta, di fare acquisti veri, certi, senza essere fregati? Direi che il primo consiglio è quello di sincerarsi intanto che il sito web corrisponda a una realtà esistente ed è facile perché senza doversi trasformare necessariamente in investigatori in erba basta verificare se nel sito delle pagine bianche esiste davvero quell'esercizio commerciale. C'è da vedere se attraverso motore di ricerca qualcuno si è già lamentato che c'è una truffa legata a quel tipo di negozio virtuale. Ci sono piccoli riscontri, ad esempio la presenza di una partita IVA, di un numero telefonico che non sia un numero telefonico cellulare. Facendo questi piccoli check, questi piccoli controlli, questi accertamenti si arriva ad avere intanto una prima tranquillità per quanto concerne chi è il nostro interlocutore. Naturalmente la cosa da preferire sarebbe quella di un pagamento contrassegno quando la merce arriva. Diversamente ci si deve avvalere di quello che è l'utilizzo appunto della carta di credito che è uno strumento nato per fare un acquisto che viene fatto di persona esibendo materialmente la carta in plastica che sia facilmente riconoscibile, magari presentando un documento identificativo che normalmente invece non viene mai chiesto. Bene, tutto questo darebbe una maggiore garanzia. C'è da dire che se si pensa di essere scippati nel corso della transazione, cioè quindi che il pirata informatico sia lì ad aspettare che noi si stiamo facendo l'acquisto, direi che è da escludere in maniera assoluta. I criminali, gli hacker che cosa fanno? Prendono di mira i grossi centri commerciali in internet e vanno lì a prendere tutte le ricevute, immaginiamoci in forma cartacea, che sono rimaste nel cassetto. E quindi il pericolo è non tanto nel collegamento che noi facciamo ma nelle difese che spesso lasciano a desiderare di chi operando commercio elettronico non adotta le precauzioni. Secondo ascolto. Scegli consultando online archivi sterminati. Pensate solo alle giornate che fino a dieci anni fa perdevamo per fare ricerche nelle biblioteche e ai pochi secondi che oggi bastano per avere tutto in una videata di Google. Però, attenzione, in biblioteca si trovano fonti per lo più certe. In rete si accede a tutto quello che tutti hanno scritto. Spesso alle cose non vere, alle cose inesatte, alle cose colpevolmente false. C'è ancora troppa gente, insomma, che riferisce notizie dicendo l'ha detto Google. Sono gli ingenui, sono quelli che poi cadono nelle troppe trappole che da virtuali diventano reali. Sono i pigri che non verificano con attenzione a chi forniscono i loro dati sensibili. Sono i poco informati che, come chiudono a chiave la porta di casa, non usano i catenacci per i loro accessi alla rete. E qui vengono i dolori veri. Gli hacker, cioè i banditi informatici, entrano e fanno man bassa di codici e passwords, ricostruiscono le nostre carte di credito e le rivendono su siti facilmente rintracciabili. È un po' come se il negozio di ferramenta tenesse una copia delle nostre chiavi e le rivendesse con il nostro indirizzo a chi poi ci svaliggerà la casa. Umberto Rappetto, comandante del Gatti, il nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di Finanza. Colonnello, buongiorno. Buona giornata a voi. Lei queste cose le scriveva già dieci anni fa. E non mi credeva nessuno, questa è la cosa drammatica. Sembravano degli scenari spettrali, sembrava così semplicemente un'angoscia sparata sui giornali. E invece era soltanto un primo scorcio di un orizzonte che poco alla volta si è aperto lasciando tutti sbalorditi perché anche gli addetti ai lavori non pensavano che si arrivasse a una dimensione del fenomeno criminale talmente ampio e bassa da arrivare così all'utente finale. Colonnello, sì, lei così naturalmente ci spaventa. Sappiamo comunque che il commercio elettronico, il commercio su internet è una grande occasione per riorganizzare un po' i nostri acquisti e per perdere meno tempo. Dicevo nell'introduzione, internet può essere una perdita di tempo ma anche un grande guadagno di tempo perché non si prende l'automobile, non si va, le cose te le portano a casa. E in un modo assolutamente comodo e legale. Come essere sicuri, lo diciamo ancora una volta, di fare acquisti veri, certi, senza essere fregati? Beh, direi che il primo consiglio è quello di sincerarsi intanto che il sito web corrisponda a una realtà esistente. Ed è facile perché senza doversi trasformare necessariamente in investigatori in erba, basta verificare se nel sito delle pagine bianche esiste davvero quell'esercizio commerciale. C'è da vedere se attraverso motore di ricerca qualcuno si è già lamentato che c'è una truffa legata a quel tipo di negozio virtuale. Ci sono piccoli riscontri, ad esempio la presenza di una partita IVA, di un numero telefonico che non sia un numero di telefoni con cellulare. Facendo questi piccoli check, questi piccoli controlli, questi accertamenti, si arriva ad avere intanto una prima tranquillità per quanto concerne chi è il nostro interlocutore. Naturalmente la cosa da preferire sarebbe quella di un pagamento contrassegno quando la merce arriva. Diversamente ci si deve avvalere di quello che è l'utilizzo appunto della carta di credito, che è uno strumento nato per fare un acquisto che viene fatto di persona, esibendo materialmente la carta in plastica che sia facilmente riconoscibile, magari presentando un documento identificativo che normalmente invece non viene mai chiesto. Bene, tutto questo darebbe una maggiore garanzia. C'è da dire che se si pensa di essere scippati nel corso della transazione, cioè quindi che il pirata informatico sia lì ad aspettare che noi si stia facendo l'acquisto, direi che è da escludere in maniera assoluta. I criminali, gli hacker, che cosa fanno? Prendono di mira i grossi centri commerciali in internet e vanno lì a prendere tutte le ricevute, immaginiamocene in forma cartacea, che sono rimaste nel cassetto. E quindi il pericolo è non tanto nel collegamento che noi facciamo, ma nelle difese che spesso lasciano a desiderare di chi operando commercio elettronico non adotta le precauzioni dovute. Secondo testo. Ascolterete ora un'intervista ad uno scrittore di libri gialli. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio. Ascolterete il testo due volte. Alle 17.40, 25 secondi, salutiamo lo scrittore di oggi che è qui già in studio. Il libro si intitola Ci saranno altre voci, pubblicato da Fazzi. Giovanni Ricciardi, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a voi. Questo è il secondo romanzo in cui troviamo Ottavio, aspetti sono dimenticato il cognome. Ottavio Ponzetti. Ottavio Ponzetti, proprio un nome italiano, semplice, semplice. Ho letto in un'intervista che lei, appunto, mentre scriveva questo libro, ci saranno altre voci, pensava anche a un altro famosissimo commissario che lavora a Roma ma non è romano, in Gravallo. Gatta, un po' accettato questo grandissimo esempio. Come diceva lei, questo è il secondo libro, soprattutto il primo libro, che era I gatti lo sapranno, che è uscito lo scorso anno e che è ambientato all'Esquilino, che appunto sono gli stessi luoghi, le stesse strade che percorre in Gravallo, è stato un pochino ispirato a una rilettura di Gadda che avevo fatto proprio nel 2007 e mi era venuto in mente di immaginare che cosa avrebbe visto questo mitico, diciamo, commissario della nostra letteratura del Novecento se fosse tornato a calcare i marciapiedi dell'Esquilino, sicuramente una Roma completamente diversa da quella degli anni Trenta che aveva immaginato, che aveva visto, che aveva vissuto il percorso Carlo Emilio Gadda. Senta, lì era appunto l'Esquilino, un quartiere storico di Roma, un quartiere anche che sta conoscendo grandi trasformazioni, nel momento è pieno di presenze di persone che vengono da altre comunità del mondo e poi improvvisamente qui invece Ponzetti lo spostano, non sappiamo quanto sia contento, in tutta altra zona di Roma, va ai Parioli. Intanto per chi non è di Roma, che cosa vuol dire questo passaggio dall'Esquilino ai Parioli e poi come lo prende Ponzetti questo trasferimento? Beh, questo passaggio per Ponzetti è una, diciamo, produce in lui un effetto di straniamento. I Parioli, per chi non conosce Roma, sono il quartiere per eccellenza della Roma Bene, della Roma benestante, ricca, altolocata, altoborghese. E quindi questo passaggio, Ponzetti che è figlio di un panettiere, che è nato a Monti, che conosce, diciamo così, una Roma quasi paesana, come quella del quartiere Monti, è qualcosa che, diciamo, desta in lui in qualche modo un po' di preoccupazione. E un po' il tema del libro è proprio quello dell'essere altrove. Io all'inizio volevo chiamarlo proprio così il libro, io vivo altrove, perché ci sono una serie di personaggi che sono in qualche modo spostati rispetto al luogo dove dovrebbero, dove vorrebbero essere. E Ponzetti lo è in qualche modo, perché si trova a dover fare i conti per la prima volta con una realtà che non aveva mai conosciuto, affrontato direttamente, e si sente un pochino a disagio, insomma. Senta, il suo commissario, Ponzetti, non è appunto, assolutamente non è il poliziotto tutto scattante, muscoloso, ma non è nemmeno quello il, diciamo, il fine psicologo. È un uomo appunto terra a terra, che le cose cerca di capirle un po' alla volta. In questo senso è molto romano. Sì, è molto romano perché è come se fosse in qualche modo tardo a reagire, anche se poi le circostanze, le vicende, le cose, il mestiere stesso che deve fare lo spingono ovviamente a reagire, a cercare di porsi di fronte alla realtà. Ma se fosse per lui, diciamo, la sua occupazione principale sarebbe quella di passeggiare per le strade di Roma, di guardare la superba bellezza di questa città, di essere in qualche modo altrove, perché nel suo modo d'essere tende un pochino a farsi, diciamo, a farsi trascinare dalla nostalgia, un po' dal rimpianto. Poi però fa un mestiere che lo costringe a stare con i piedi per terra e quindi a riprendere ogni volta contatto con la realtà. Secondo ascolto. Alle 17 e 40, 25 secondi, salutiamo lo scrittore di oggi che è qui già in studio. Il libro si intitola Ci saranno altre voci, piccato da Fazzi. Giovanni Ricciardi, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a voi. Questo è il secondo romanzo in cui troviamo Ottavio, aspetti, sono dimenticato il cognome. Ottavio Ponzetti. Ottavio Ponzetti. Ottavio Ponzetti, proprio un nome italiano, semplice, semplice. Ho letto in un'intervista che lei, appunto, mentre scriveva questo libro, ci saranno altre voci, pensava anche a un altro famosissimo commissario che lavora a Roma ma non è romano, in Gravallo. Gatta. Poi c'è stato questo grandissimo esempio. E come diceva lei, questo è il secondo libro, soprattutto il primo libro, che era I gatti lo sapranno, che è uscito lo scorso anno e che è ambientato all'Esquilino, che appunto sono gli stessi luoghi, le stesse strade che percorre in Gravallo, è stato un pochino ispirato a una rilettura di Gadda che avevo fatto proprio nel 2007. E mi era venuto in mente di immaginare che cosa avrebbe visto questo mitico, diciamo, commissario della nostra letteratura del Novecento, se fosse tornato a calcare i marciapiedi dell'Esquilino. Sicuramente una Roma completamente diversa da quella degli anni 30 che aveva immaginato, che aveva visto, che aveva vissuto e percorso Carlo Emilio Gadda. Senta, lì era appunto l'Esquilino, un quartiere storico di Roma, un quartiere anche che sta conoscendo grandi trasformazioni, nel momento è pieno di presenze di persone che vengono da altre comunità del mondo. E poi improvvisamente qui invece Ponzetti lo spostano, non sappiamo quanto sia contento, in tutta altra zona di Roma, va ai Parioli. Intanto, per chi non è di Roma, che cosa vuol dire questo passaggio dall'Esquilino ai Parioli? E poi, come lo prende Ponzetti questo trasferimento? Beh, questo passaggio per Ponzetti è una, diciamo, produce in lui un effetto di straniamento. I Parioli, per chi non conosce Roma, sono il quartiere per eccellenza della Roma Bene, della Roma benestante, ricca, altolocata, altoborghese. E quindi questo passaggio, Ponzetti che è figlio di un panettiere, che è nato a Monti, che conosce, diciamo così, una Roma quasi paesana, come quella del quartiere Monti, è qualcosa che, diciamo, destra in lui in qualche modo un po' di preoccupazione. E un po' il tema del libro è proprio quello dell'essere altrove. Io all'inizio volevo chiamarlo proprio così il libro, Io vivo altrove, perché ci sono una serie di personaggi che sono in qualche modo spostati rispetto al luogo dove dovrebbero, dove vorrebbero essere. E Ponzetti lo è in qualche modo, perché si trova a dover fare i conti per la prima volta con una realtà che non aveva mai conosciuto, affrontato direttamente e si sente un pochino a disagio, insomma. Senta, il suo commissario, Ponzetti non è, appunto, assolutamente non è il poliziotto tutto scattante, muscoloso, ma non è nemmeno quello il, diciamo, il fine psicologo. È un uomo, appunto, terra a terra, che le cose cerca di capirle un po' alla volta. In questo senso è molto romano. Sì, è molto romano perché è come se fosse in qualche modo tardo a reagire, anche se poi le circostanze, le vicende, le cose, il mestiere stesso che deve fare lo spingono, ovviamente, a reagire, a cercare di porsi di fronte alla realtà. Ma se fosse per lui, diciamo, la sua occupazione principale sarebbe quella di passeggiare per le strade di Roma, di guardare la superba bellezza di questa città, di essere in qualche modo altrove perché nel suo modo d'essere tende un pochino a farsi, diciamo, farsi trascinare dalla nostalgia, un po' dal rimpianto. Poi però fa un mestiere che lo costringe a stare con i piedi per terra e quindi a riprendere ogni volta contatto con la realtà. D2. Ascolterete ora un testo che tratta di un nuovo canale televisivo. Ascoltate attentamente e svolgete l'attività indicata nel foglio. Ascolterete il testo due volte. Buon pomeriggio. Fra due giorni, il primo di agosto, sulla piattaforma Sky partiranno le trasmissioni di un nuovo canale, il canale Baby TV. Baby TV perché il suo pubblico è stato spiegato dagli autori e quello dei bambini al di sotto dei tre anni. Inevitabili naturalmente le polemiche da parte di chi ritiene che non si possa parcheggiare un bambino così piccolo davanti al televisore. C'è il quotidiano dei Vescovi, l'avvenire, che ha addirittura chiesto la chiusura di questo canale, anche se sull'altro fronte si osserva che è un po' difficile giudicare in maniera così dura un prodotto prima ancora di averlo visto. È comunque un fatto che i nostri figli passano troppo tempo con la televisione o al computer, con i videogiochi, il che qualche problema di socializzazione e di maturazione sicuramente lo pone. Questo sarà l'argomento del nostro filo conduttore. Allora, saluto anche la professoressa Anna Oliverio Ferraris, docente di Psicologia dello Sviluppo alla Sapienza di Roma. Professoressa, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, c'è però un fatto, diciamo, che anche secondo i dati dell'Istat il 96% di bambini in età prescolare guarda la televisione, quindi il 96% praticamente tutti, età prescolare significa da 0 a 5 anni, diciamo che magari non si incomincerà prima dei 3 anni, o forse sì, non lo so. È comunque un fatto che, diciamo, la televisione e il televisore è uno dei principali motivi di compagnia dei bambini, insomma, indipendentemente dall'età. Sì, ma questo è soltanto deprimente, non è che ci deve incoraggiare a mettere i neonati di fronte allo schermo. Tra l'altro vorrei dire che non è che tutti i paesi occidentali accettano questo programma Baby TV, ci sono i paesi del nord Europa che assolutamente non lo fanno entrare, perché è un veicolo, tra l'altro è un veicolo pubblicitario, sono associati i prodotti per bambini, che le mamme vedono e soprattutto si vuole fidelizzare, questo è il termine che usano questi signori, i bambini a certi logo, a certi marchi, eccetera, in un'età in cui ovviamente non hanno minimamente il senso critico e vengono pesantemente condizionati. Poi noi sappiamo che la televisione, nei primi anni di vita, fa più male che bene in tanti campi diversi, cioè per esempio tra 0 e 3 anni questo è un periodo sensibile per l'apprendimento del linguaggio e la televisione zittisce i bambini, mentre i bambini per imparare a parlare devono fare un esercizio attivo, inserirsi in un discorso con una persona in carne ed ossa, imitare, fare dei tentativi, ascoltare e così via. Sul piano motorio li fa stare fermi, quando noi invece sappiamo che i bambini hanno una mente concreta e capiscono facendo attivamente le cose, quindi muovendosi usando i cinque sensi, in più poi li ipnotizza, li ipnotizza, cioè i bambini vengono ipnotizzati da questo flusso, da questo flusso continuo, di immagini, di suoni, cioè dal multimediale, i colori, ed è difficilissimo staccarli e allora questo oggetto diventa un oggetto di attaccamento a cui loro si condizionano. Ci sono studi anche recenti che dimostrano che il bambino che sta giocando con un televisore acceso nella stanza si distrae dal gioco, perde la concentrazione e infatti in Francia, dove non sono riusciti a bloccare questo programma, però almeno le autorità per le comunicazioni hanno obbligato a inserire un messaggio che dice guardare la televisione può frenare lo sviluppo dei bambini minori di tre anni con una verità di psicomotori. Ecco allora professoressa, un'altra questione, diciamo i bambini tante volte si dice non devono essere abbandonati da soli davanti al televisore, magari può essere una forma di distrazione, ecco proprio per evitare però questa fruizione passiva è bene che ci siano i genitori vicini, è sufficiente questo o no? Guardi, i bambini guardano molto la televisione perché sono venuti meno gli spazi gioco, cioè allora bisognerebbe restituire gli spazi gioco tradizionali, i cortili, i parchi e così via, sono obbligati a fare questo tipo di vita assolutamente inadatto a loro, più adatto a una persona malata, diciamo che non può muoversi dal letto, perché sono venuti a mancare questi spazi e nessuno pensa, nessuno vuole riflettere su quelli che sono i reali bisogni di un bambino in crescita, che prima deve conoscere la realtà e poi è virtuale, in un secondo momento è virtuale, altrimenti fa tra l'altro una grandissima confusione. Secondo ascolto Buon pomeriggio, fra due giorni, il primo di agosto, sulla piattaforma Sky partiranno le trasmissioni di un nuovo canale, il canale Baby TV. Baby TV perché il suo pubblico è stato spiegato dagli autori e quello dei bambini al di sotto dei tre anni. Inevitabili naturalmente le polemiche da parte di chi ritiene che non si possa parcheggiare un bambino così piccolo davanti al televisore e c'è il quotidiano dei Vescovi l'avvenire che ha addirittura chiesto la chiusura di questo canale, anche se sull'altro fronte si osserva che è un po' difficile giudicare in maniera così dura un prodotto prima ancora di averlo visto. È comunque un fatto che i nostri figli passano troppo tempo con la televisione o al computer con i videogiochi, il che qualche problema di socializzazione e di maturazione sicuramente lo pone. Questo sarà l'argomento del nostro filo conduttore. Allora, saluto anche la professoressa Anna Oliverio Ferraris, docente di Psicologia dello Sviluppo alla Sapienza di Roma. ma professoressa buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, c'è però un fatto diciamo che anche secondo i dati dell'Istat il 96% di bambini in età prescolare guarda la televisione quindi il 96% praticamente tutti in età prescolare significa da 0 a 5 anni diciamo che magari non si incomincerà prima dei 3 anni o forse sì, non lo so. È comunque un fatto che diciamo la televisione e il televisore è uno dei principali motivi di compagnia dei bambini insomma indipendentemente dall'età. Sì, ma questo è soltanto deprimente non è che ci deve incoraggiare i neonati di fronte allo schermo tra l'altro vorrei dire che non è che tutti i paesi occidentali accettano questo programma Baby TV ci sono i paesi del nord Europa che assolutamente non lo fanno entrare perché è un veicolo tra l'altro è un veicolo pubblicitario e sono associati prodotti per bambini che le mamme vedono e soprattutto si vuole fidelizzare questo è il termine che usano questi signori i bambini a certi logo a certi marchi eccetera in un'età in cui ovviamente non hanno minimamente il senso critico e vengono pesantemente condizionati poi noi sappiamo che la televisione nei primi anni di vita fa più male che bene in tanti campi diversi cioè per esempio tra 0 e 3 anni questo è un periodo sensibile per l'apprendimento del linguaggio e la televisione zittisce i bambini mentre i bambini per imparare a parlare devono fare un esercizio attivo inserirsi in un discorso con una persona in carne ed ossa imitare fare dei tentativi ascoltare e così via sul piano motorio li fa stare fermi quando noi invece sappiamo che i bambini hanno una mente concreta e capiscono facendo attivamente le cose quindi muovendosi usando i 5 sensi in più poi li ipnotizza li ipnotizza cioè i bambini vengono ipnotizzati rimangono incantati e da questo flusso continuo di immagini di suoni cioè dal multimediale i colori ed è difficilissimo staccarli e allora questo oggetto diventa un oggetto di attaccamento a cui loro si condizionano ci sono studi anche recenti che dimostrano che il bambino che sta giocando con un televisore acceso nella stanza si distrae dal gioco perde la concentrazione e infatti in Francia dove non sono riusciti a bloccare questo programma però almeno le autorità per le comunicazioni hanno obbligato a inserire un messaggio che dice guardare la televisione può frenare lo sviluppo dei bambini minori di 3 anni per avere ritardi psicomotori ecco allora professoressa un'altra questione diciamo i bambini tante volte si dice non devono essere abbandonati da soli davanti al televisore magari può essere una forma di distrazione ecco proprio per evitare però questa fruizione passiva è bene che ci siano i genitori vicini è sufficiente questo o no? guardano molto la televisione perché sono venuti meno gli spazi gioco cioè allora bisognerebbe restituire gli spazi gioco tradizionali i cortili i parchi e così via sono obbligati a fare questo tipo di vita assolutamente inadatto a loro più adatto a una persona malata diciamo che non può muoversi dal letto perché sono venuti a mancare questi spazi e nessuno pensa nessuno vuole riflettere su quelli che sono i reali bisogni di un bambino in crescita che prima deve conoscere la realtà e poi il virtuale in un secondo momento il virtuale altrimenti fa tra l'altro una grandissima confusione D3 ascolterete ora un testo che tratta del Museo archeologico virtuale di Ercolano durante l'ascolto svolgete l'attività indicata nel foglio ascolterete il testo una sola volta l'accoglienza sembra convenzionale i nomi dei duemila cittadini maschi di Ercolano così come erano incisi su marmo all'ingresso del foro poi i volti degli ercolanesi così come l'arte ce li ha tramandati ma già qui sta il bello basta avvicinarsi a ciascuno per udirlo parlare raccontare la propria storia e basta allontanarsi per udire la sua voce sempre più fioca sino a scomparire per lasciare spazio ad altre voci e a suoni odori luci percezioni impalpabili che ti trasformano in un gladiatore pronto ad uscire nell'arena o in un filosofo che si inebria dei vapori e profumi delle antiche terme o infine in un sopravvissuto dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. angosciato testimone del dramma questo promette il museo archeologico virtuale di Ercolano che aprirà i battenti nell'autunno prossimo non oggetti non opere non lunghe didascalie ma immagini proiettate su grandi schermi o nell'aria in sofisticati ologrammi ricostruzioni virtuali delle città vesuviane entro cui immergersi giochi di luce illusioni ottiche tutto virtuale assolutamente immateriale governato da un software sofisticatissimo il museo avrà come sede un grande edificio ristrutturato dal comune dopo anni di abbandono già da tempo un comitato di cittadini chiedeva che venisse trasformato in un punto di socializzazione il fulcro della rinascita di uno dei quartieri più degradati della città racconta l'ideatore del museo tra qualche mese diventerà un centro di oltre 5.000 metri quadrati divisi in tre piani museo virtuale nel seminterrato al piano terra una libreria e sale per congressi al piano superiore un ristorante per l'inaugurazione già si pensa a una contemporanea via satellite con un altro grande evento oltreoceano ma è l'archeologia la vera sfida l'evento tanto atteso l'idea di fondo è far rivivere il mondo antico con l'aiuto di tutto ciò che la tecnologia moderna può offrire ma rendendo il suo apporto discreto al massimo quasi impalpabile etereo a Ercolano il visitatore riceverà un badge all'ingresso dove dovrà comunicare la sua nazionalità così che quando si avvicinerà alle installazioni le interfacce intuitive di cui sono dotate lo riconosceranno e gli parleranno nella sua lingua e sintetizzatori produrranno rumori luci vapori l'effetto del vento come accade quando si percorrono i cunicoli scavati nel settecento dai primi archeologi al teatro di Ercolano o si vedono i graffiti incisi dagli spettatori di duemila anni fa sembrerà di seguire in diretta le fasi dell'eruzione del vesuvio attraverso monitor che mandano immagini del vulcano saranno gli oggetti ad andare incontro al visitatore a coinvolgerlo e non il contrario come avviene nei normali musei questo museo vuole trasmettere emozioni suscitare reazioni istintive come quando si ammireranno importanti statue e vasi sotto forma di proiezioni olografiche tridimensionali che si materializzeranno come d'incanto nell'aria e attraverso le quali si potrà anche passare nel museo ci sarà anche una sorta di cupola che consente di immergersi nei paesaggi virtuali a 360 gradi per poter passeggiare nel foro o per le vie di Pompei di duemila anni fa dentro case eterme tra i portici della villa dei papiri o tra le botteghe del porto tutto realizzato sulla base di una rigorosa lettura di mappe disegni relazioni di scavo e pubblicazioni sulle città vesuviane e con un po' di fantasia per rendere l'immediatezza della vita quotidiana di un po' di 같iga di un po' di natura di un po' di natura di un po' di natura di 대표 dove Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.